Benvenuti in questo nuovo di Roblox, qui sto, oggi giochiamo, non mi ricordo il nome della mappa effettivamente, aspettate che tabbo, non è dentro, zone rush, praticamente c'è un cerchio, dura tipo 20 secondi, se all'ultimo secondo sei dentro il cerchio, sopravvivi, se sei fuori dal cerchio, schiappi, è come la modalità di GTA, il problema però è che abbiamo una mazza per colpire gli altri e sbalzarli fuori, come GTA, le auto per sbalzarli fuori, quindi bisogna cercare di sopravvivere e di restare l'ultimo che resta in vita, è molto divertente, sarà molto molto stupida, tra l'altro guadagnando i soldini della mappa possiamo comprare delle abilità speciali, come su Bladeball, quindi ci divertiamo, siete pronti? Kenda voleva comprare questo, guarda, io so già che farete 3 contro 1, questo per comprare, compramelo Steph, non posso regarti niente in sto gioco, dai Steph, compro, fai un bambino felice, ma non so se c'è qualcosa, togliete, premete il tasto, aspettate, anzi un attimo, io l'ho già fatto, sono andata solo io, ok ci sono, io e Kendall lo sto picchiando, osserviamo, ok 5 secondi, ora se qualcuno finisce fuori schiatta, per entrare e fa in tempo, siete salvi, comunque sembra, sapete cosa sembra il posto dove abita Sandy di SpongeBob, è vero, è vero, ha vinto, ha vinto, ha vinto, bravo, Allora, è come la modalità di GTA, però è più difficile, e poi il cerchio è sempre più piccolo, vero? Sì, esatto, uguale, identica, bellissima, noi facciamo una modalità uguale, no, non gracchi, no, non gracchi, sul GTA, però con le auto devi sbalzare fuori con le auto, ci siamo? Sì, vai, io ci sono, no, io ci sono, Carly, devi premere il FK, vabbè, picchiamoci, ma, ma non avevo già disattivato, deve essere arancione, deve essere arancione, sì, ah, ok, ok, e ditelo, ma mi sembra abbastanza ovvio, eh no, non era ovvio, non era ovvio, ma su Marta, guardalo questo è sempre pronto, fermi, sono Zoro, eccolo, 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 è partito, ma maledetto, tranquillo, no, per le spalle, entra, eccomi, no, 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 mi ha preso lui, ultimo, oh, mi piace il suo gioco, bello, davvero che è divertente, è nutelloso, sì, sì, anch'io mi sta divertendo, è nutelloso, guarda, 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 ha vinto un altro nutellino, finalmente posso giocare? Raga, Carly è potentissima, fate attenzione, ma che muscoli, no, aiuto, voglio fare, dobbiamo lanciarci fuori dal cielo, però allo scadere del tempo, quella è la cosa importante, no, Steph, calmi, 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 no, no, torno, 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 adios, no, elimina, io ve l'avevo detto che era potentissima, Guardate una sberla ai petterali, mamma mia, Carly, saltando addirittura, guarda, i petterali, oh, gioca, cioè ci fa fuori tutti, no, no, si stanno anche andare, attenzione, e va fuori, no, quasi la doppia, non ci credo, non ci credo, quasi la doppia, mamma il god, mamma il god, l'imperatore, Attenzione, 2, 1, ce l'ha, ce l'ha, oddio, ce l'ho fatto, ho vinto, ho vinto, oh, fino al vento, al millesimo di secondo, esatto, sì, proprio per un pelo, eh, posso prendere le spade con le fighe? Sto cercando le spade da prendere, via, fattene, ma Carly ti fai colpi saltando, ahia, i critici, i critici, i critici, i critici, i critici, i critici di Minecraft, No, 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 oh, son dentro, che fortuna, anchor, anche io, che fortuna, no, si stanno sottendendo quei due, non sono, Son qua, ecco, via, 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 carly è matta, ma Carly prende abbastonati il muro, stavo per me sono rientrato di mezzo secondo c'è un riccio assurdo attenzione che sono fortissimi i miei muscoli magari poi ci fermiamo un attimo e guardiamo le abilità il problema è che non stiamo guadagnando soldi perché secondo me ci può guadagnare solo dei server con gli altri però potremmo fare l'ultimo round e andiamo con i nutellini i bimbetti e li pestiamo i bimbetti che giocano a caso andiamo nei server pubblici a caso mi è quasi ammazzato maledetto infame oh te ne vai da lì glue nascosto come un infame guardalo tranquillo che era fuori vai giù comunque puoi dire che dopo la mappa di prima questo è un toccatana vero ci voleva vero si ti fa sfoghere tutta la rabbia accumulata esatto quale uscirà prima di video? eh a sto punto l'altro no mi sai che perdo mi sai che perdo se Fer mi prende perdo omae wa mou shinde iru nani dai con un solo colpo questo è perché te sei girato a pensare a me è colpa tua fallito sento che puntata a me fallito fallito vai andiamo a giocare con i bimbi cambiamo server allora ricordatevi il dash usatelo solo per salvarvi ok questi sono i bambini random del mondo esatto quindi possiamo insultare no scherzo sì no allora li possiamo insultare ma c'è il problema è che sono forti perché non sapete ah va bene va bene va bene ma non hanno i miei pettorali eh quello sì però forse siamo noi che li prenderemo allora quello che ha appena vinto questo vital è il campione a 50 kill non è che città non è che città no 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 forse è lei in botte su rob esatto focussiamolo ragazzi dobbiamo farlo quitare esatto povero vital qual è? oh scusa oh scusa guarda di me scusa scusa io me ne starei fuori fino all'ultimo e poi entro vero secondo me questa è la strategia guarda sto scemo che mi voleva buttare fuori io l'ho ucciso uno io sono salvo cioè uno mi ha preso a caso all'ultimo fer è morta sì mi ha preso all'ultimo a caso ai 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 sono salvo io sono salvo vai vai no 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 ma quello forte ha perso dai sì l'ho ucciso io ah è qua brava salto 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 pugno 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 siamo rimasti in cinque non fatevi nemici siamo solo io e te siamo solo io e te ok ok vedi che qua si pensano grandi giocatori in realtà gli spaccate la faccia allo stesso guardali uff ucciso un altro buono dai prendiamo i puntozzi voglio lo skin di luffy non so neanche se c'è in realtà ok dobbiamo camperarli ora ok io te amici ha visto uno col cappello di paglia tranquillo tranquillo no no ho vinto ho deciso tu sì ma cosa però non era voluto stavo colpendo gli altri due bimbetti ho preso anche a lui no vabbè 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 è importante abbiamo vinto noi abbiamo vinto ok vitalp dove vai vitalp ah il vitalp l'ho picchiato prima devi mangiare i panini con il salame ancora che si crede di essere vitalp fuori 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 il cerchio è nostro sì ma Kendall non picchiare me ma uno l'ho fatto volare no no sono morto ok sono out no sono dentro oh mi hanno ributtato pure l'ultimo carli scusami sono stata io scusa la lava ammazza è difficile capire chi stai capendo credo non si capisce niente non si capisce niente tranquillo tranquillo no carli scusami stessi sono io stessi sono io sono morto torno 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 no ottimo ce l'abbiamo ce l'abbiamo stessi è morto sì no carli adesso il pro player è maionese dobbiamo puntare maionese va bene accendiamo col sonno col tonno siamo noi quattro più una persona ok via 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 sta tornando sta tornando mercoledì occhio via buttatela fuori via buttatela fuori siamo safe siamo safe non torna non torna si è salvata abbiamo fatto quinta a tutti i bambini siamo la gang la gang di roblox è perché questi stanno nei server quando stanno che possono vincere sta arrivando mercoledì dov'è è lì no 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 sta aspettando a tre ore via via vai adesso si combatte ok si è tornata ah ma sei tu scusa mio amore non sono mercoledì adams io ho detto butta fuori anche questa via 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 tu vai fuori tu vai fuori oh no carli vinco io no sono tornato sei un maledetto però no no mi sono salvato mi sono salvato 1v1 baciato dalla fortuna non ci arrivi non ci arrivi la bolla vai via ah si 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 ma sono scappati tutti e ora che te ne pensi sono andati tutti via sono andati gli andiamo fatti andati tutti via non ti avvicinavo no hai rischiato salvo salvo no bello eh ci sta e ora finta finta guarda lì no dai come hai fatto a pre... mamma mia dov'è la skin di luffy? ancora e compragli la sua skin dai stef sono andato felice io non l'ho neanche vista c'è solo luffy seduto qua non è detto che ci sia non c'è il prossimo video sarà una sfida di moda dove ci cambiamo le skin e stef ci comprerà la skin di luffy va bene stef shoppa le skin dei suoi amici vai perché stai picchiando carli? non lo so c'è questa tizia con la spada incredibile eh questa è forte guardala guarda non so dai lasciami qui no non è forte non è forte dai dai l'ho combattuta nel training eh oh eh devo prendere che è andato sei quello forte ma come? ma quando mai? tanto per lei la buttate fuori quindi allora teoricamente l'ho buttata abbastanza lontana non dovrebbe riuscire stef dovresti rientrare si tranquillo c'è sei è tornata in tempo? si non ci credo è forte fuori dalla mia isola questo è il mio quartiere via stai lontano dalla casa oh mi era calmata via ho detto l'uccisa mi sono vendicata finalmente ma sono io contro Fere sei un clown oh non mi camperà all'ingresso non mi camperà all'ingresso non fare il candle vieni cara ma mi camperà raga ma non è giusto che vince chi entra per primo però ma perché non hai ancora capito la tecnica ma che tecnica se vuoi te l'insegno se vuoi criticare basta non te l'insegno la fai vincere un po' la tua amata poverino no deve solo subire ma questo è il mio compagno c'ho una magliettina rosa come me no Fere perché? dai ma sei scema oh io non ti punta all'inizio no l'ho puntata apposta così non mi camperà dopo ma già perdi lo stesso ma già perdi vedrai no picchiere me no picchiere me picchiere il pollo KFC ciao carli vai via mannaggia KFC fuori questa la devo vincere voglio lo skin no Fere buttiamolo fuori Fere appena l'ha detto colpo fuori via no 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 mi hai preso da 6.000 blocchi stai hackerando stai hackerando no buttalo fuori me tutti fuori ho vinto ma dai ero dentro ero dentro la zona signori abbiamo trovato il mio nuovo talento ma che talento e talento dopo uno questo 4 vittorie 4 non si fanno mai 80 io c'ho 203 chi è che mi ha colpito quando sono sporato io non c'ero neanche che da lozzo beccati carli non ti mettere contro un nemico potente sì 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 c'è un sacco di rente ragazzo no no raga I love Vibus ce l'ha con me chi? I love Vibus che è? non lo so mi ha sperato io non li leggerei i nomi delle persone non si sa mai che cosa è quello che c'è all'ostura lavangini no 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 tanto se mi caccia un po' siamo tantissimi siamo tantissimi infatti è più divertente dove sono le casse che le compro? no 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 torna torna ma è questa la verified sono fuori questa deve essere io comunque quella lì stava cittando cioè gli partivano i colpi carraffiga mi vedi a fianco dietro di te qua ah scusa sei tutto blu vediamo se trovo qualcosa di bello dammi la katana dammi la katana dai chiudì oddio stavo trovando la diamond sword di minecraft ultima ma chi si è ancora il cerchio si si ce la fa guarda carli pettoroli vai vai pettoroli arriva 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 occhio prendi questa la vince la vince la vince grandissima questa vittoria è la più importante perché nessuno ha vinto con quei tanta gente ma che raga ma io ho delle armi rarissime dove hai anche luffy guarda c'è la spada rara di diamante cap fc c'era con me si si vuole vendicare eh si fuori c'è la morte con me guarda si 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 ragazzi aiutatemi adesso però dobbiamo bloccarla esatto via no perché mi hai colpito alle spalle dovevamo colpire questo tizio ho colpito anche lei guarda ma stai zitto carli stai calma rimaniamo solo dai due lo so ma questo mi colpisce alle spalle quando abbiamo un obiettivo comune vabbè io non ho parole è un traditore kenda come fa da bella spada te l'ho detto con le skin rare ma com'è possibile ma non lo so neanche io come fa ha scioppato ha scioppato oddio scusa fare vai ciao carli scusa scusa e poi ti rubano non è molto nessuno esatto siamo scarsi qua scusa fare ho colpito il kfc eh ma perché non ce la fai a capire chi stai colpendo io prendo kfc tra 30 secondi vai via e fuori e fuori e fuori kfc è andato morto e anche un altro è morto siamo rimasti mi sei capriamo il cerchio il cerchio vieni allora sto puntando sì ma siamo una gang ragazzi ma non è normale no è giusto giusto contro dei bambini sono morto giusto giusto siete voi la scura lavandini è tremenda che sfigati che siamo tutti adulti contro i bambini è quello il bello è quello il bello è quello il bello siete voi tre contro uno vi prego di batterlo vabbè ora dascio no 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 torna 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 ucciso ok siete voi tre siete voi tre finale scusate siete voi tre io volevo eliminare Kendall avete 10 secondi eh l'ho visto bene l'ho visto bene comproviamoci fuori attenzione sicuramente la vince Kendall devi campere allora no no buttalo fuori buttalo fuori è stato bravo allora la vince Carly Carly sei un infame da dietro grande Carly meglio carlissimo infame colpo perfetto bellissimo che infamata ci fermiamo questo gioco ve lo consiglio troppo perché è veramente stra divertente è partita è da nerdarci con gli amici troppo troppo bello ci fermiamo e ci vediamo in un prossimo video ciao ciao ciao